Anche stavolta la città di Reggio Calabria è stata defraudata di qualcosa, stavolta è toccato ai posti di reumatologia dell'ospedale cittadino, in quanto alle altre province sono stati affidati dei posti, mentre qui a Reggio nessuno. A tal proposito vediamo impegnato come sempre il movimento cittadini. Anche questa volta siamo chiamati a denunciare quello che effettivamente non c'è mai andato giù negli ultimi tempi, cioè il defraudamento completo della città rispetto a ogni argomento, a partire dall'aeroporto alla mancanza di sostegno per i disabili. Ora siamo arrivati addirittura alla sanità per la quale il direttore generale Frank Benedetto sta dando veramente l'anima e noi come movimento cittadini siamo dovuti intervenire per l'ennesimo torto che è stato fatto dal commissario Scura che ha ben deciso sui 50 posti letto regionali di affidarne, relativi alla reumatologia, 10 alla provincia di Cosenza e 40 a quella di Crotone, rimanendo praticamente lasciando fuori, lasciando a zero completamente un reparto tanto attivo, tanto operativo e necessario, proprio bisognoso alla quantità di malati purtroppo crescenti e bisognosi di questo settore specialistico. Per cui quotidianamente siamo chiamati a denunciare e a gridare per qualcosa che ci viene completamente defraudato e non sappiamo veramente a quale santo più volgere perché gli amministratori dovrebbero essere proprio qui al nostro posto a fare ciò che noi facciamo, denunciare e tirare fuori soprattutto le unghie per far sì che non arrivi affatto compiuto ogni evento e che si possa intervenire ancora prima che questo sia definitivamente deciso e sancito da qualche delibera decretata. Per cui incrociamo le dite e speriamo che anche gli ultimi giorni possano essere utili per recuperare anche nel settore sanità quello che ci tocca. Grazie a tutti.